Musica Fa che sia un'esperienza molto stimolante, mi ha aiutato a capire concetti che posso attuare sia all'interno di un ambiente lavorativo sia nel personale e penso che, anzi, la consiglio assolutamente a tutti quanti La modalità pragmatica in cui si tocciono tutti i vari argomenti Se te lo conoscevo già, ho fatto già un corso con lui sei mesi fa, rezzato, e mi piace molto come spiega Musica 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 Il futuro è aiutare ai nostri collaboratori a crescere e farle soprattutto coinvolgere le sue mansioni per raggiungere gli obiettivi dell'azienda Musica 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 Musica